Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del giornale radio, tra pochi istanti avrà inizio un avvenimento che passerà alla storia, di fatti assisteremo al decollo del primo radio spaziale in assoluto ad essere equipaggiato il prossimo permetterà all'equipaggio di non subire il passare del tempo a livello biologico del viaggio. Grazie a tutti! Qual è il tuo nome straniero? Io non me lo ricordo.